Ciao, sono un flan di zucchine, sono tenero, soffice e ho un cuore filante. Pensi che potresti innamorarti di me? Se la risposta è sì, ecco cosa devi fare. Taglia le zucchine a cubetti e cuocile in padella a fuoco basso con un filo d'olio fino a che non saranno tenere. Una volta pronte, frullale, versale in una ciotola, aggiungi le uova e il parmigiano grattugiato e mescola per far amalgamare bene gli ingredienti. Trasferisci il composto in dei pirottini precedentemente imburrati e cosparzi di pangrattato, aggiungi un pezzetto di provola e cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-50 minuti. Una volta pronti, falli intiepidire, capovolgili e se vuoi metti un altro pezzetto di provola e ripassali in forno qualche istante. Allora, ti sei innamorato oppure no?